C'è poca neve in Valdaveto l'8 dicembre, al Prato della Cipolla apriranno il primo tronco dell'asseggio via e i laboratori per i bambini ancora chiuse, le piste da sci in attesa del cannone sparaneve. Di sesto idrogeologico, incursioni di animali selvatici e quote latte sono alcune delle asperità che devono fronteggiare gli agricoltori in Liguria. Questa sera il focus in direttamente su. Avvento, tempo prezioso per verificare il nostro desiderio di Dio e lasciarlo irrompere nella vita. Le parole del Papa L'Angelus nella prima domenica del nuovo anno liturgico. Dall'incontro con i leader religiosi del Nyanmar alla richiesta di perdono ai Rohingya per l'indifferenza del mondo. Molti sono gli argomenti toccati dal Papa nella conferenza stampa sul volo di rientro del suo ventunesimo viaggio apostolico. Il nostro cuore è una miniera buia se ci allontaniamo da Dio. Il messaggio della prima domenica di avvento nella messa celebrata a Gambatesa per la festa di Santa Barbara, patrona dei minatori. Serie B la Virtus Entella Chiavari ritrova gioco e morale in vista dello scontro diretto con Lascoli. Al comunale i bianco celesti battono il Bari 3 a 1 con le reti di Lamantia, Troiano e De Luca. Buonasera a tutti, gentili telespedatori, benvenuti nei nostri studi. Iniziamo il nostro giornale parlando del freddo. Stiamo vivendo giornate da sapore invernale con temperature rigide soprattutto nell'entroterra della nostra regione. In Val d'Aveto la neve che ha interessato soprattutto il ponente ha tradito le attese. Gli impianti di risalita sono pronte alla riapertura per il ponte dell'Immacolata, ma per ora le piste per sciare rimarranno chiuse. Vediamo. Notte di gelo nell'entroterra Ligure. La rete Limet segnala l'impressionante valore di meno 14,5 gradi registrato questa mattina dalla centralina di Calizzano nel Savonese. Il calo del vento e il cielo sgombro da nuvole favoriscono, secondo gli esperti, l'inversione termica nelle aree interne, specialmente nei fondovalle. Più caldo ma non troppo lungo le coste, dove dopo una mattinata dal clima frizzante si registrano valori tra i 10 e i 12 gradi. Sul Monte Bue si sono toccati meno 7,9 gradi, meno 6,3 al Prato della Cipolla, stessa temperatura a Rocca d'Aveto. Le nevicate dei giorni scorsi però hanno interessato soprattutto il ponente, mentre sulle vette della Val d'Aveto il manto bianco non è così interessante. E di fronte alla nuova settimana, che si prospetta più calda della precedente, gli impianti di risalita apriranno lo stesso? In questi giorni le precipitazioni nervose arrivate sono state di non notevole intensità, non c'è sufficiente neve per aprire le piste da sci. Siamo aperti il weekend dell'8 con la seggiovia di rifugio, è attivo il lavoratore didattico per i bambini. In più stiamo anche predisponendo il tutto per aprire il papirulano di Prato Bello, perché stiamo acquistando un canone sparaneve e se le temperature lo consentono produrremo quel po' di neve per aprire il papirulano. Probabilmente non per l'8, ma per il weekend successivo e speriamo quantomeno di averlo funzionante per Natale, in maniera che se ci sono le famiglie, se ci sono i turisti, riusciamo a garantire un minimo di campo scuola per i bambini. Dunque l'acquisto del canone sparaneve può essere la soluzione per risolvere quella che potrebbe essere una stagione carente? Se non altro riusciamo ad aprire un campo scuola, dare un po' di linfa alle attività rocca in paese e garantire comunque il trasferimento al rifugio a Prato da Cipolla. Sicuramente meglio dell'altro anno, l'altro anno abbiamo visto essere una carenza, il papirulano lo avevamo acquistato, non siamo riusciti ad acquistare il canone sparaneve, quest'anno ci siamo mossi per farlo e saremo pronti. Il comparto agricolo Ligure ha le prese con diverse difficoltà, cercheremo di analizzarne alcune con l'assessore regionale Stefano Mai del corso della trasmissione direttamente su che andrà in onda questa sera alle ore 21.10 sul canale 15 del vostro telecomando. Siamo andati sul territorio a constatare le problematiche che quotidianamente affrontano le persone che si dedicano ad attività legate proprio a questo settore. Vi proponiamo alcune testimonianze in anteprima. Prego la regia di Mandale in onda. Un viaggio nel mondo dell'agricoltura dal piccolo al medio imprenditore con un'analisi più specifica di alcuni comparti. Insieme all'assessore regionale Stefano Mai ci siamo addentrati in alcune delle problematiche più ricorrenti del settore, a partire dal territorio spesso oggetto di minacce ambientali. Danneggiati dalla natura e dai cinghiali. Bisogna prendere una ditta e fare un lavoro come si deve fare dalla valle alla strada e portare la terra nelle fasce. Sicuramente l'aspetto anche economico di un intervento di questo genere significa... I comuni, anche loro, hanno difficoltà a tutto quanto, però se abbiamo un incentivo dalla forestale che possiamo tagliare un albero, la provinciale non viene... Cioè, noi diciamo di fare le cose in regola, però non avere proprio le mani legate su tutto, perché anche la minima cosa di tagliare un albero che ostruisce un ruscello non mi sembra una cosa... Quello olivicolo, almeno per quest'anno, è un comparto che sta vivendo una stagione favorevole, con rese superiori ad ogni aspettativa. Sta andando molto bene, soprattutto non per tanto la quantità, ma quanto per le rese, perché io è da vent'anni che faccio questo lavoro e non ho mai visto olive che rendano così tanto, ecco. Qual è la resa media? Ma va da... se parliamo di quarte, che è un'unità di misura che noi conosciamo, dai tre ai tre e mezzo, ecco. Il settore della zootecnia, invece, sta affrontando un momento non semplice legato sia alla carenza di foraggi dovuto alla siccità, sia alle condizioni ritenute inique rispetto alla restante parte dell'Europa, ad esempio in materia di quote latte. Non hanno fatto l'Europa unita, i politici, ma non hanno fatto l'Europa economica unita, perché giustamente in Romania arriva il latte a 20 centesimi, ma lassù guadagnano. Perché dobbiamo ritornare che qua un operaio 1.500 euro ce li devi dare al mese, lassù ci danno 150 euro al mese, cioè 1 a 10. E il latte 1 a 10 a noi ce lo pagherebbero 2 euro che noi potremo anche guadagnarci. Vi ricordo direttamente su Coltivare l'agricoltura, questa sera 21 e 10, Telepace 1, Canale 15. E' stata presentata quest'oggi in Regione la convenzione siglata con i carabinieri forestali per la prevenzione e il monitoraggio del territorio ai fini dell'anti-incendio boschivo. La raccolta dati sugli incendi e lo svolgimento delle indagini. L'accordo avrà durata triennale. Per il primo anno Regione Liguria si impegna ad offrire gratuitamente i locali che ospitano le sedi provinciali dei gruppi dei carabinieri forestali di La Spezia, Genova e Savona, oltre ad altri specifici servizi. Inoltre la convenzione prevede la fornitura da parte dei carabinieri dei dati sui roghi boschivi, la sorveglianza del territorio e il raccordo con la sala operativa regionale. Previsto l'uso per il rifornimento di carburante degli elicotteri regionali delle strutture di Borghetto Vare e Villanova d'Albenga. Intanto da gennaio a settembre 2017 il numero degli incendi ha aumentato rispetto alla media annua degli ultimi 5 anni. Negli ultimi 12 mesi sono registrati 436 incendi di cui 339 boschivi che hanno percorso 5.054,4 ettari di cui 4.980,6 boschivi per una media di incendio di 14,6 ettari. Siamo all'Angelus del Papa nella Catechesi della Prima Domenica di Avvento. Francesco si è soffermato sul significato di questo tempo prezioso. In particolare ha invitato i fedeli a fare attenzione e a vegliare la sintesi nel servizio curato dal Centro Televisivo Vaticano. Il Signore ritornerà a noi nella festa del Natale quando faremo memoria della sua venuta storica nell'umiltà della condizione umana. Egli viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti a riceverlo e verrà di nuovo alla fine dei tempi. Questo è il messaggio con cui Papa Francesco ha dato inizio al nuovo anno liturgico commentando all'Angelus il Vangelo della Prima Domenica d'Avvento in cui Gesù invita i discepoli a non smettere mai di vegliare affinché il ritorno del Signore non li colga di sorpresa come servi addormentati risvegliati dall'arrivo improvviso del loro padrone. La persona attenta, ha sottolineato Francesco, è quella che nel rumore del mondo non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità ma vive in maniera piena e consapevole con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri, al mondo. Con questo atteggiamento, ha aggiunto Francesco, ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne le capacità e le qualità umane e spirituali. La persona vigilante è quella che accoglie l'invito a vegliare, respingendo la sollecitazione delle tante vanità di cui trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e familiare. Essere attenti e essere vigilanti sono le condizioni per mettere a Dio di rompere nella nostra esistenza per restituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. Il pensiero del Papa è poi andato al viaggio apostolico appena concluso in Myanmar e Bangladesh. Il Santo Padre aveva già affrontato i temi della sua visita in Asia durante la conferenza stampa che si è svolta a bordo dell'aereo durante il viaggio di rientro. Sentiamo. Dal gioioso incontro con i leader religiosi del Myanmar alla profonda emozione provata nell'arcivescovado di Dacca chiedendo perdono ai profughi Rohingya per l'indifferenza del mondo. Sono stati numerosi gli argomenti toccati da Papa Francesco nel corso della consueta conferenza stampa sul volo di rientro dal suo ventunesimo viaggio internazionale, il terzo in Estremo Oriente. Sollecitato dalle domande dei giornalisti, Francesco ha ripercorso le tappe fondamentali che hanno scandito i suoi giorni da pellegrino di pace in Myanmar e poi in Bangladesh. Affrontando il tema del dialogo interreligioso, il pontefice ha sottolineato che la Chiesa cresce non per proselitismo ma per attrazione, testimoniando il Vangelo ogni giorno, con rispetto. La pace, ha aggiunto Francesco, tramunta proprio quando inizia il proselitismo. Riguardo all'ospitalità e alla protezione offerta dal Bangladesh alla minoranza etnica di religione islamica, Papa Bergoglio lo ha definito un grande esempio di accoglienza, un paese piccolo, povero, che ha comunque ricevuto 700.000 persone in difficoltà. Francesco si è poi soffermato sull'incontro con il gruppo etnico dei Rohingya. Dopo averli ascoltati uno ad uno, ha raccontato alla stampa il pontefice, ho cominciato a sentire qualcosa dentro, non potevo lasciarli andare senza dire nulla ed ho parlato, ho chiesto perdono piangendo, ha aggiunto Francesco, e loro piangevano con me. Sulla possibilità di un suo eventuale viaggio apostolico in Cina, il Papa ha poi ricordato che le trattative sono in corso, sottolineando quanto una simile visita necessiti di una paziente preparazione, ribadendo che le porte del cuore sono sempre aperte. Il nuovo vescovo di Buar, in Repubblica Centroafricana, è Don Miroslav Gucchwa. Don Miroslav è polacco, è nato nel 1963, è stato ordinato sacerdote nel 1988, fin da subito ha svolto servizio missionario in Centrafica, dove dal 2006 era vicario generale della diocesi di Buar e dal 2014 parroco della cattedrale. La nomina è stata firmata dal pontefice sabato scorso, accettando la rinuncia di Monsignor Armando Gianni. Nella prima domenica di avvento, la celebrazione eucaristica su Telepace è andata in onda dalla miniera di Gambatesa, una miniera che si trova a Ne, in occasione della festa di Santa Barbara, che è la patrona dei minatori. Un tuffo nella storia del territorio che ha permesso di gettare una luce molto particolare sulla liturgia della giornata. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Riunire la comunità attorno al pane spezzato, Gesù Eucaristia, e al tempo stesso ricordare le persone che hanno speso decine di anni della loro vita in miniera a Gambatesa, invocando la patrona Santa Barbara per non perdere la fede. È stato il duplice scopo della Santa Messa, celebrata proprio nella miniera della Val Graveglia, in occasione della patrona dei minatori. Il segno concreto di questa prima edizione di una festa, che nelle intenzioni di tutti è destinata a diventare una tradizione, è stata la benedizione di un'icona raggiunta processionalmente subito dopo la celebrazione. Barbara era con lei che in qualche modo li teneva legati alla fede, oltre alla domenica a seguire le celebrazioni. Durante la settimana rivolgersi sempre a Barbara, patrona dei minatori, per guardare a lei che ha vissuto il suo tempo, ha sofferto nel suo tempo, ha faticato nel suo tempo, ma nel suo tempo è riuscita comunque a raggiungere l'eternità. Non è mancato il legame con la liturgia del giorno, quella della prima domenica di avvento, che invita ad essere vigilanti. In quel luogo lì la miniera è il nostro cuore quando è lontano da Dio. I minatori vivevano all'interno delle montagne per ricavare quel minerale, ma il loro cuore era sempre vicino a Dio, quindi quel vegliare era quella luce che avevano bisogno per non farci sorprendere dalla fatica della vita. Fra i vari testimoni della giornata, un ex minatore di origine chiavarese è trapiantato in Val Graveglia. Sono venuto a lavorare qui nell'85 e poi mi sono appassionato al lavoro e poi con il tempo mi sono anche preso casa qua, mi sono proprio spostato da Chiavoli, sono venuto a arrivare qua e sono andato in pensione. Come erano le giornate? Ma volavano via, devo dire la verità. Quando lavori così in tranquillità, in serenità, amicizia, perché poi comunque arriviamo dal gruppo, arrivi all'ora di fine turno, diciamo, che non c'è qualcosa che neanche. Anche per l'amministrazione comunale questo appuntamento deve diventare fisso. Mi rendo conto di quanto significato abbia commemorare Santa Barbara proprio in questo sito, che è un monumento al lavoro e è un monumento alla vita di queste persone che hanno anche un po' costruito, come ho già detto, la nostra vallata. Ed è giusto che continuiamo così a commemorare. Per me è un onore essere qui e spero che accada ancora e ancora. Questa mattina il Vescovo di Cesano ha celebrato la Santa Messa per i lavoratori del settore dell'Ardese nella chiesa dell'Orsica in Valle Fontanabuona. Monsignor Tanasini ha sottolineato il forte legame tra il lavoro e la pace. Quando c'è la guerra, l'uomo è impegnato in un massacro reciproco e l'occupazione ne paga le conseguenze. Il lavoro è tale, invece, quando viviamo in pace. Il Vescovo, infine, ha invitato gli ardesiaci a offrire a Cristo le preoccupazioni del settore, i rischi e i pericoli di ogni giorno, esortandoli ad avere fiducia in un Dio che si è fatto prossimo agli uomini e dunque capace di sanare timori e anche ferite. Da operaio in un'industria petrolchimica ad insegnante di religione è la storia di Nicola Incampo, oggi responsabile dell'ufficio scuola per la regione ecclesiastica della Basilicata. Incampo ha iniziato questa nuova missione con i ragazzi nel 1986 e ne ha parlato al corso di aggiornamento per i docenti di religione della diocesi di Chiavri. Noi lo abbiamo intervistato. Dall'86 oggi è cambiato il mondo. Com'è cambiato il modo di insegnare religione? L'ora di religione è il termometro nella società che cambia. E l'ora di religione è l'ora, a differenza di quello che si dice, è l'ora più bella nelle scuole. Perché è l'unico momento quando i ragazzi trovano se stessi e hanno, come dire, la forza e il coraggio di presentarsi così come sono alla società. Ed è molto bello vedere che i ragazzi aspettano con ansia quest'ora per poter essere se stessi. Perché la società, la famiglia in modo particolare, la scuola non li aiuta. E loro hanno bisogno di modelle e hanno bisogno di persone che aiuti a costruire un progetto che, diciamo, nella famiglia in modo particolare viene visto come una cosa che non esiste. Quindi tutto si vive alla giornata. Tutto vogliono tutti e lo vogliono in un modo immediato. L'insegnante di religione e questa disciplina, che sia tipica e così bella, riesce a creare questo equilibrio sempre. E ripeto, i ragazzi, non a caso, in tutta Italia sono il 90%, però in teoria, in pratica, sono molto, molto di più. Perché quelli che chiedono di uscire durante l'ora di religione sono quelli che stanno, che vengono, pur essendo religione all'ultima ora, partecipano all'ora di religione. Come si comporta con i ragazzi stranieri? C'è interesse da parte loro e lei come reagisce? La scelta, molte volte sbagliata, la fanno i genitori, perché sono convinti che quello è catechismo. Però, ripeto, loro partecipando, l'anno successivo, negli anni successivi, chiedono di fare religione. Proprio perché questo confronto li aiuta. Io dirò di più, ho avuto un'esperienza molto bella, molto bella. Un ragazzo marocchino ha cambiato religione, quindi io l'ho seguito, poi sono stato il padrino al battesimo, alla cresima, e sta continuando ancora a fare con me un cammino molto bello. Prosegue domani il corso di formazione per gli insegnanti di religione del territorio, curato dall'ufficio diocesano della scuola. Domani, 17, nel salone di casa Marchesane, a Chiavari, interverrà Raffaele Mantegazza, pedagogista docente all'Università La Bicocca di Milano. Entrano nel vivo le feste di Natale per il bagliattico di Chiavari. Da domani alcune scuole visiteranno la sede di Corso Garibaldi. Nelle prossime settimane, invece, l'istituto sarà protagonista di tre appuntamenti. Il primo, giovedì 14 dicembre, con gli anziani della casa di riposo Torriglia. L'intervista di presentazione. La vediamo insieme. Anche l'istituto bagliattico è interessato da alcune iniziative, a cominciare dalle visite delle scuole del territorio. Come funzionerà? Riceveremo la visita dell'asilo della Torre di Chiavari, di Via del Pino, in cui i bambini dai 3 ai 5 anni verranno a farci visita. Ognuno di loro è stato sensibilizzato dai propri maestri, dai propri genitori, a portare un proprio dono, un proprio gioco, un proprio regalo o anche un proprio indumento agli altri bambini meno fortunati che noi assistiamo. I giorni in cui verranno saranno il 5, il 6 e il 12. Veniamo alle altre iniziative di Natale, in particolar modo alla festa del mese di dicembre, classica, quando si terrà e in che forma? Sì, ormai da alcuni anni la teniamo alla casa di riposo Torriglia. Quest'anno il presidente è il dottor Monteverde, anche lui è stato molto entusiasta di ospitarci. La festa inizia alle 15. Gli ospiti sono generalmente molto contenti di vedere tutti questi bimbi, sono molto contenti perché per loro è un giorno di festa e in quell'occasione quindi riceveranno un pacco dono speciale più, c'è tutto un rinfresco e facciamo anche un po' il punto della situazione. E poi ci sarà un altro momento nel mese di dicembre la vostra presenza con i gazebi in città? Questo è un evento organizzato dal Comune di Chiavari insieme col Banco di Chiavari in Piazza Mazzini ci saranno i gazebi di solidarietà, del Natale di solidarietà. È una bella iniziativa che permette anche a noi associazioni di ritrovarci comunque proprio faccia a faccia e di scambiarci anche noi stessi gli auguri oltre a presentare le varie realtà a tutti i cittadini presenti. Oltre a questo poi l'evento più per noi importante dal punto di vista della raccolta è la pesca di beneficenza. Quest'anno sarà sabato 23 dalla mattina fino alla sera saremo sempre in Piazza Mazzini per raccogliere fondi per il nostro istituto. Da questa sera per tutto il tempo di avvento Telepace propone uno spazio di preghiera in famiglia appuntamento quotidiano che va in onda in e diretta dal Santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione di Cerna in provincia di Verona e verrà trasmesso sul canale digitale nazionale e satellitare di Telepace. La nostra emittente lo proporrà ogni sera a partire dalle 20.30 su Telepace 4 al canale 218. La preghiera viene guidata da Don Claudio Savio e ci saranno dei collegamenti con Don Luca Sardella in alcune famiglie della nostra diocesi per l'ascolto del Vangelo e un breve momento di riflessione. Da questa sera dunque appuntamento alle 20.30 in diretta su Telepace 4 al canale 218. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per domani martedì 5 dicembre. La sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 5 dicembre. Come ogni martedì è aperto alle visite il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti che espone attrezzature scientifiche d'epoca nei locali del seminario Vescoviglie di Chiavari. L'orario va dalle 9 alle 12.00. Nuova lezione all'Accademia Culturale Rappallese. Alle 16.00 nei locali di Villa Coirolo Rosanna Arrighi parlerà di letteratura italiana. Per il tredicesimo corso di cultura genovese alle 16.30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari Cesare Dotti presenterà il Lunaio de Chiavari 2018 titolo del calendario Uspie e Speziaie de Chiavari de Navotta. Alle 19.45 nella Sala del Coni in Via Padre Santo a Genova si parlerà di programmazione precampionato di calcio mezzi e metodi di allenamento a trattare l'argomento i preparatori atletici di due squadre di calcio di serie B Fabio Esposito della Virtus Entella e Massimiliano Botto dello Spezia. Bene, torniamo in studio parliamo di sport precisamente di calcio serie B la Virtus Entella ha battuto 3-1 il Bari risultato che riscatta un inizio di campionato lì sotto dell'attesa e ridà morale alla squadra in vista dello scontro diretto contro l'Ascoli nel fine settimana. La sintesi della partita e le dichiarazioni a fine gara. Vediamo. La Virtus Entella si tira fuori dalla zona play-out con una prestazione autorevole che non lascia scampo al Bari capolista ma non sono soltanto i 20 punti in classifica insieme a Spezia e D'Avellino a ridare morale alla squadra c'è la ritrovata fiducia nei propri mezzi e una vittoria per 3-1 contro un avversario temibile. Al comunale Chiavaresi in vantaggio al diciottesimo con la Mantia che appoggia in rete servito da De Luca tra i migliori in campo. Al trentaseiesimo Troiano raddoppia su rigore concesso per l'atterramento di Giau. La ripresa vede un Bari più aggressivo la costante pressione porta alla rete di Galano al sessantaquattresimo Pelliserre spinge corto e il rimpallo favorisce gli avversari. Tuttavia la Virtus Entella non demorde e pochi minuti dopo al sessantottesimo arriva alla rete di De Luca per il definitivo 3-1. All'ottantunesimo la Mantia rimane esanime a terra dopo un contatto di testa con Tonucci e deve uscire dal campo è l'ultima emozione della partita. Primo tempo eccezionale un dici le odi in campo. Sì è stata un'ottima prestazione del primo tempo sia sotto l'aspetto di qualità di intensità di ordine tattico tutto quello che avevamo preparato ci è riuscito non a caso siamo andati avanti due gol e veramente la squadra ha fatto molto bene. Questo è il calcio che vuole all'Ieti? È un calcio che a me piace quello che chiaramente la squadra deve giocare ma non un possesso palla lento un possesso palla veloce finalizzata alla verticalizzazione e oggi visti anche gli interpreti che abbiamo lo possiamo fare oggi l'abbiamo fatto bene. L'obiettivo è continuare a fare gol importanti perché ce lo meritiamo abbiamo sofferto e speriamo di continuare su questa strada sia con i gol miei che con quelli degli altri compagni. Ora c'è la parola contro l'Ascoli dove è uno scontro diretto e noi dobbiamo di base avere questo approccio e questa mentalità questo atteggiamento questa attenzione perché se troveranno questa in tela sarà veramente dura. Scendiamo in Serie D ancora una sconfitta per la Lavagnese in casa del San Donato Tavernelle i bianconeri hanno perso 2-0 prosegue dunque il momento negativo della squadra ferma 21 punti in classifica con la zona playoff che si allontana ulteriormente importante vittoria invece del Sessi Levante che al Sivori ha battuto 1-0 la Massese in Rete Pane allo scadere del secondo tempo i ragazzi di Mister Dellatti salgono a 18 punti fuori dalla zona playoff Passiamo alla palla nuoto in Serie A1 maschile nella settima giornata di campionato la Prorecco in Sicilia ha battuto 19-8 i padroni di casa del Catania il prossimo impegno per i bianco celesti sarà mercoledì sempre contro una siciliana ovvero l'Ortigia ma a Sori con inizio alle ore 15 per la Serie A2 maschile pareggia il Camogli perdono Lavagna e Chiavari a Camogli è terminata 5-5 la sfida tra i padroni di casa e i marchigiani dell'Ancona nella piscina di Largo Pessagno invece la Chiavari Nuoto non ce l'ha fatta contro il Como i Lombardi hanno vinto per 11-5 a quinto infine Lavagna ha perso 7-4 contro i padroni di casa questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45 TG13 vi lascio i programmi serali sulla nostra emittente vi auguro una buona serata arrivederci a l'ultima notizia a l'ultima notizia per l'ultima notizia per l'ultima notizia